Una sorpresa molto positiva questa mattina per tutti gli aquilani. La Otefal riaprirà investimento minimo di 10 milioni di euro ed altri 10 milioni di euro per prendere all'asta tutto quello che rimane della Otefal. Con noi c'è il signor Fraschina, una grossa impresa del Vare Sotto. Finalmente 200 persone, forse anche più, grazie a lei e alla sua industria torneranno a vivere. Sì, grazie a me e comunque grazie agli imprenditori del luogo. Tra l'altro imprenditori con i quali ho trovato un ottimo feeling e un ottimo feeling ho avuto anche del territorio ed è stato uno dei motivi determinanti per scegliere ancora l'Italia. Perché comunque è vero, in controtendenza, ma qualcuno ci deve credere, no? Quindi sentirsi bene a casa propria, avere degli ottimi rapporti, ripeto, col territorio e con le persone che conosci, con le quali andrai a sviluppare il lavoro, secondo me è fondamentale. Contiamo nel 2016 di arrivare a 200 dipendenti e fare l'attività produttiva storica dell'azienda, qui all'Aquila, per due elementi fondamentali. Primo perché crediamo nel mondo Italia, crediamo nel paese Italia e soprattutto crediamo nella popolazione locale. E nella qualità Italia. Sì, certo. E crediamo nella popolazione locale perché da tutte le informazioni che noi abbiamo assunto nel corso di tutta questa vicenda, sappiamo che le maestranze sono fedeli all'azienda e ci garantiranno quella qualità produttiva che andare a fare investimenti oggi all'estero sono anacronistici.